Pisa si allinea all'Europa in termini di mobilità urbana innovativa. Oggi, infatti, ha fatto il suo viaggio inaugurale il Pisa Mover, la navetta ad alta frequenza che collegherà l'aeroporto Galilei con il parcheggio scambiatore di via di Goletta e la stazione di Pisa. Tempo di percorrenza 5 minuti. 600 giorni di cantiere per arrivare ad oggi. A sancire la rilevanza del Pisa Mover con il simbolico taglio del nastro, oltre al governatore Enrico Rossi e all'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, c'erano anche il vicepresidente del Parlamento europeo David Sassoli e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio, un sostenitore della cura del ferro che... Anche grazie all'iniziativa delle regioni e degli enti locali prosegue. Abbiamo, come sapete, messo in campo il più grande programma di rinnovo dei mezzi rotabili mai effettuato nella storia di questo paese. L'attenzione è soprattutto ai pendolari, al trasporto pubblico locale, che è il vero punto su cui il paese è debole. Nei prossimi tre anni noi acquisteremo più di 200 treni nuovi e sostituiremo i 10.000 autobus, quindi sarà un investimento senza precedenti nella storia di questo paese. Come sapete, in Italia 6 passeggeri su 10 usano l'auto per muoversi, a differenza che negli altri paesi. Quindi è un cambio culturale che però migliora la qualità di vita delle città, migliora anche la qualità di vita delle persone, perché in treno o con i mezzi pubblici si sta molto meglio. E sul Pisa Mover potranno trovare posto 107 persone per volta. Nato dalle ceneri del vecchio binario 14, prende il posto del vecchio treno che non garantiva una così alta frequenza di collegamento. Le navette alimentate elettricamente per ridurre l'impatto sull'ambiente infatti utilizzano il funzionamento vai e vieni per collegare 365 giorni l'anno, dalle 6 alle 24, aeroporto, stazioni e parcheggio scambiatore con 1.400 posti auto. Credo che questo sia veramente un nodo plurimodale molto avanzato, sia un'opera questa che fa della Toscana di Pisa un esempio per i migliori standard europei. Credo che questo nodo plurimodale che consente di avere la possibilità di collegare la stazione con l'aeroporto e quindi il ferro con l'aereo e anche la gomma attraverso i parcheggi scambiatori e poi le piste ciclabili faccia veramente di questa opera uno degli esempi più avanzati che abbiamo in Europa. L'obiettivo e la speranza è di far passare un milione di utenti dalla gomma al ferro. Come confermato dal sindaco di Pisa Marco Filippeschi, ogni giorno Pisa passa dai 91 milioni residenti ai 160 mila presenti. Dalla stazione ferroviaria ne passano circa 18 milioni senza considerare gli accessi per l'ospedale, per l'università e dall'aeroporto sono circa 5 milioni passeggeri. Tutti i dati dicono e confermano che cresce il trasporto con gli aerei, crescono i viaggiatori e in un mondo globalizzato è evidente che se non ci sono queste infrastrutture rimaniamo indietro. Io non giro moltissimo, però la Toscana aveva bisogno di tutto questo, se andiamo in giro per l'Europa, troviamo situazioni di accoglienza, di servizio che sono più moderne rispetto a quelle che garantiamo noi. Con questo passo avanti di oggi cominciamo a collocarci nella media alta europea. Poi anche per raggiungere Firenze che è l'altro tema, se riusciremo con ferrovie, ci stiamo già provando, noi abbiamo migliorato molto in generale il servizio ferroviario, è cresciuto bene, ci sono mezzi nuovi, altri entreranno, altri vagoni, altri treni nuovi e bisognerà poi lavorare un po' per vedere se riusciamo ad avere anche treni dedicati che in un arco di tempo sotto l'ora consentano di collegarsi con Firenze. Infine, e facciamo un po' di conti, il Pisa Mover è costato all'incirca 71 milioni di euro di cui 21 finanziati dall'Unione Europea, il resto a carico dei partner che la gestiranno per i prossimi 30 anni. Nei costi sono comprese anche le opere migliorative per il quartiere, tra cui nuove piste ciclabili, rotonde e una nuova viabilità. Per quanto riguarda le tariffe, con 2,50 euro si potrà parcheggiare la macchina tutto il giorno con incluso il biglietto del Pisa Mover andato in ritorno nel parcheggio scambiatore. Il prezzo della corsa singola è 2,70 euro, ma sono previsti anche sconti per chi condivide l'auto, secondo la logica del carpooling. Fino a domenica 26 però il Pisa Mover sarà gratuito così da permettere a tutti di provarlo.